Ed eccoci qua, il raduno di Salerno, finalmente. Siamo al Parco Pinocchio, nei pressi di Fratte, a Salerno. E siamo all'inizio, in fase di preispizione. Siamo arrivati alle esprimibili. E siamo al Parco Pinocchio. Eccolo qua, la guardia armata, c'è la vogliono tu per di là, ce l'ha visto? La mia fama, ed ecco, è la prima roba che è arrivata. Ci vediamo il modulo per le iscrizioni, i luoghi pubblicità, ci sono dette a disposizione. questa è qua ci grattiamo chi deve fare l'iscrizione ecco il solito arrivo questa mia buongiorno 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 Ciao bello!